gestione dei prodotti nel distributore in questa sezione si possono modificare e configurare alcune opzioni legate ai prodotti la prima pagina che andiamo a vedere è la configurazione delle colonne è riportato l'elenco con il dettaglio di quelli che sono i prodotti per colonna è possibile in questo caso accendere o spegnere alcune tipologie di erogatori per poter ottenere subito le informazioni desiderate una volta individuata la colonna da modificare è sufficiente premere il pulsante modifica associazione verrà caricato l'elenco dei prodotti e si potrà selezionare quello che è il nuovo prodotto da abbinare a quella determinata colonna una volta confermata l'immagine e i dati del nuovo prodotto verranno riportati nel quadro relativo della determinata colonna per rendere operative queste informazioni bisognerà cliccare sul bottone salva configurazione configurazione delle etichette è possibile anche in questo caso poter effettuare tutta una serie di operazioni sulle etichette dei prodotti la prima e più veloce operazione che si può effettuare è lo scambio basta cliccare su due prodotti e poi confermare è possibile scambiare anche due prodotti di due colonne differenti per rendere operativi i cambiamenti poi è sempre necessario salvare la configurazione è possibile inoltre effettuare la modifica di un'etichetta quindi selezionare un prodotto, confermare e in questo modo si otterrà la modifica del prodotto desiderato per rendere il tutto operativo è sempre necessario cliccare poi su salva configurazione la pagina di gestione pannelli invece dà la possibilità di rendere visibili o invisibili i pannelli prodotto nella schermata del distributore anche in questo caso ogni modifica deve essere salvata e confermata parametri prodotto è una pagina dedicata alla modifica di quelli che sono i parametri e i valori modificabili su un determinato prodotto se previsto il fatto che il parametro sia modificabile oppure no è evidenziato dai cerchiolini rossi oppure verdi filtrando le categorie del prodotto è possibile accedere alle varie tipologie di prodotto e cliccando su modifica parametri sarà possibile modificare quelle informazioni consentite in questo caso ad esempio il prezzo lo sconto applicato e se il prodotto è in promozione o meno si dovrà dare conferma per poter impostare i nuovi dati e una volta finito di modificare i parametri bisognerà salvare la nuova configurazione per renderla operativa sulla macchina grazie 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 grazie